Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay ETA Oggi siamo nuovamente su Dyson Sphere Program Gioco che se non avete visto ho già portato in live Con una live di un'oretta e mezza Fatta sabato sera Gioco veramente sorprendente, molto interessante E lo voglio continuare per vedere un attimino se vi può interessare Al momento che cosa avevamo fatto? Avevamo fatto la produzione di questo Di questi, diciamo, Electromagnetics Matrix Allora, che cos'è questo gioco? Beh, per chi non ha visto la live Io lo prego di andarlo a vedere perché almeno si fa un'idea più precisa di quello che è il gioco Però vi farò un sunto È un mix di diverse cose da primis factorio Come concetto di, diciamo, rulli che portano le cose Il movimento, il fatto che possiamo avvestare così noi Siamo questo robottone Poi ricorda molto anche Astronir Perché il nostro robottone ha un'energia Da alimentare Quindi o ci mettiamo a fianco, diciamo, di queste turbine E ci ricarichiamo O andiamo direttamente a caricare del carbone O delle merci che possono essere bruciate Per generare energia Abbiamo un ampio pannello di ricerca Dove possiamo andare a cercare veramente il mondo L'obiettivo finale è quello di creare la sfera di Dyson Che è una sfera teorizzata da un vincitore del premio Nobel Per la fisica inglese Ed è una sfera che praticamente Abbiamo visto nella schermata del titolo Circonda praticamente una stella Generalmente alla distanza di un'unità astronomica In grado E quindi questa sfera è in grado di trarne tutta l'energia possibile Massima Dalla stella È una struttura utopistica Insomma, niente di che In sintesi Per fare la ricerca All'inizio ci serve Beh, ovvio che per arrivare in fondo Ci servono tutti questi cubi Un po' come le pozzoncine in In fattorio Però adesso Per farlo ci servono queste Che sono gli electromagnetic matrix E per farli ci servono Bisogna usare questo edificio qui Che è un Un edificio che chiede come Materiale di ingresso Due Magnetic coil Vabbè E il circuito Quindi ho predisposto La produzione di uno e dell'altro Quindi in pratica Qui viene scavato Il Copper Viene scavato Messo in magazzino Dal magazzino viene fuso Fuso in lingotti In lingotti si dividono in due Uno va qui E uno va là Quello che va là Crea la La Diciamo La bobina magnetica Che è questa Usando anche Che questi cerchi Diciamo di ferro Perché di qua C'è la miniera di ferro La raffinazione Raffinazione in Lingotti O in Questi anelli Gli anelli arrivano qui Qui crafta La bobina Di qua invece I lingotti Vengono divisi Tra appunto I lingotti Che vanno a fare La bobina E i lingotti Invece che escono Scavallano E vanno a fare La scheda Elettronica E qui abbiamo La produzione Produzione Poi viene stipata Qui E qui Viene immagazzinata E verrà Utilizzata Poi Per Le ricerche Ovviamente Per chi non ha visto La live Dico anche Che questo è il pianeta Stiamo costruendo qui Il pianeta non è enorme Però Bello grande Ma Comunque Andando indietro Qui vediamo Che c'è un gigante Grassoso Il nome non l'ho scelto io Purtroppo Ci sono Pianeti C'è il sistema Solare E c'è la galassia Quindi si potrà poi Costruire delle strutture In grado di portare All'esterno E portare tra i pianeti Le varie cose Ora Vediamo che cosa Possiamo ricercare Potremmo ricercare Una nuova fonte energetica Come ad esempio La produzione solare Energia solare Vediamo dov'è Allora Eccola qua Per fare questa Ci servono 200 di questo Io Sono d'accordo Dai proviamo a farla Nuove fonti di energia Crescono Possiamo ricercarla No perché Devo ricercare Prima questo Perché vedete Che qua mi serve Il doppio Anche da qui Allora Lo smelting purification Praticamente Ci permette Di sbloccare Il silicone Quindi Ottenuto Dal ferro In pratica No Possiamo raccogliere Le vene di silicio Ok Possiamo produrre La grafite Energetica Che ci produce energia Possiamo bruciarla Anche noi stessi E Con il silicio Ad alta Purità Insomma Va bene In questo caso Il gioco Sta andando a Vedete la ricerca Viene fatta Consumando dei materiali Quindi i materiali Li abbiamo Già addosso No Li prendiamo Prendiamo questi Lingotti Che stiamo producendo E Andiamo a consumarli Intanto dovremmo averli tutti Ovviamente dovete tenere conto Che le risorse finiscono Quindi bisognerà poi spostare Questo Una volta che sarà tutto scavato E una volta finita tutto il giacimento Dovemmo spostarsi in un'altra parte Ma a quel punto Io mi auspico Di essere già su altre pianete Perché ho visto che su Steam Tanti si chiedevano Ma Non è possibile avere Materiali illimitati Ma cavolo Avete una galassia Fate andare un pochino La mente E viaggiate Insomma E fate cose Allora Abbiamo Al momento Miniera di carbone qui Che miniera di carbone È sempre utile Perché il carbone Al momento Non ha un'utilità In produzione Ma Ho riempito il magazzino Io mi prendo un po' di carbone Perché il carbone Me lo vado a mettere qui E mi ricarica Ovviamente Noi consumiamo energia Nel momento in cui Costruiamo qualcosa Ci muoviamo Voliamo Perché sull'acqua Poi il nostro mino Vola Così Ma soprattutto Quando costruiamo Da noi Partono dei daroni Che vanno e costruiscono E questo consuma Guardate quanto sta consumando Il volare Ci sta portando giù Poi Il consumo È maggiore Di quanto Il carbone Stia Diciamo Creando energia Quindi andiamo in perdita Adesso vedete Che io cammino E vado leggermente in perdita Resto fermo Mi ricarico Allora Lì le soluzioni sono due O trovare Una fonte di energia Da bruciare Che ci dà più energia Al secondo Oppure andare Sul pannello della ricerca Schede upgrades E potenziarci Qua abbiamo tutto il potenziamento Dalla Esplorazione Questo cos'è Scusate Questo è silicio Ma non ce la fa scavarlo Titanium Ah il titanium Abbiamo scavato Ottimo L'acce dell'altro Copper Di l'acce Della Altra pietra Qua ci sono Delle vene Di Sembrerebbe essere Tipo petarolio Ci manca La produzione Appunto Di Di pietra E potrei andare A perzarla qui Adesso ci mettiamo Subito all'opera Tanto un po' di materiali Dovremmo averli Produciamo subito Una miniera Che non abbiamo Quindi Mining machine Tra l'altro Abbiamo anche Sbloccato Il collettore Di liquidi Infatti Il collettore Di liquidi Dovremmo averlo Qui Nello zaino Ma non abbiamo La pompa Dell'acqua Quindi vabbè Adesso magari Poi ci pensiamo Perché la pompa Dell'acqua Mi sa che non la Potevamo fare Infatti Facciamo Ci servirà Questa sorta Di motore elettrico Niente Facciamo La miniera Per la costruzione Questo ovviamente È un video Che non è che porti avanti La partita Se avete visto La live Ma è una sorta Di recap Giusto per capire Quanto viene seguito Il gioco Perché ovviamente È un gioco Che sta ottenendo Dei risultati Spaventosi Online Perché In due giorni Hanno già Quasi 2000 Recensioni Su Steam Ed è estremamente Positiva La valutazione Quindi Mi stupisce Anche questa cosa Mi stupisce No Non mi stupisce Però È giusto per Per dire Allora Adesso Ruotiamo Lo mettiamo qua Così Vedete I robottini Qua I droni Vanno E costruiscono In questo caso Andiamo a mettere Dei Ok Collide Con altri oggetti Perché Ok Così Basta E poi Facciamo Un magazzino Che dovremmo Già avere Sì Storage No Non ce l'ho Non ce l'ho Dobbiamo produrlo Produciamo il magazzino Il magazzino Richiede Del legno Anche Però Lo riusciamo a fare Riusciamo a farne Vedete qua in alto 15 Quindi Per i secondi Lo produciamo Ovviamente Prima Il nostro Droide Mech Va a prodursi Il nostro Gundam Va a prodursi I materiali Richiesti Il gioco è cinese Di sviluppo cinese Cioè Lo capisco Dal fatto che Comunque Ha la lingua Cinese Come lingua Principale Ma in inglese Anche Allora Adesso Produciamo Questi Questi servono Come loro Perché Che cos'è È Quello che Estrae E quello Che Introduce Mi spiego Qua viene preso Io gli dico Da qui Buttalo dentro E guardate Si può fare fino alla distanza Di due blocchi Quindi praticamente Adesso Andiamo a posizionare La fonte energetica Perché qua Energia non c'è Abbiamo ricercato La smelting purification Quindi Ottimo Andiamo a produrre Una Di queste Le torri Tesla Che sono Torri Paleoliche Adesso Io vado A ricercare Il pannello solare Quindi Il pannello solare Ovviamente non produrrà Energia di notte Ah Figata Perché qua abbiamo Anche l'energy storage Quindi possiamo andare A mettere All'interno Ok Ma non abbiamo Possibilità Di Ricercarlo Perché ci chiede Questa Energy matrix Che non abbiamo Dobbiamo trovare Il modo di produrla Anche qua Crystal smelting Niente Solar collection Quella riusciamo a fare La 200 blocchi Inizia già a produrne Un po' Perché un po' Ne abbiamo Nello zaino Vediamo Adesso Abbiamo fatto Quella La torre Qua La posizioniamo Qui Che alimenta Questo Poi ci servirà Anche un'alimentazione Per il Magazzino No Il magazzino Non serve Vedete che qua Sta già iniziando A produrre Casse di pietre Ok L'obiettivo è fatto Quindi stiamo Anche lì Producendo Bene o male L'eolico È una fonte Indimitata di energia Questa è una grande Semplificazione Ovviamente Poi ci saranno Metodi di produzione Energia Più dispendiosi Cioè più dispendiosi In termini di consumi Di materie Ma In grado di sostenere Più impianti Qua Bene o male Se a qui Aggiungiamo Magari Come ad esempio In alcune zone In cui c'è anche Uno smelter Una Uno Uno strumento Che costruisce Un assemblatore Non ce la fa Ne va fatta un'altra Quindi Va bene così Allora adesso Prendiamo questi 126 E continuiamo la production Perfetto E così Completiamo anche La ricerca dei pannelli Qua adesso è buio Ovviamente Andando indietro Nel mondo Girando Vedete che là C'è Il sole Quindi adesso Bisogna capire Da che parte è ruota Se sta arrivando l'alba O se è appena Andato via il tramonto Tanto vedete qua Continua E produce Ora Sì stiamo Producendo Quelle cose lì Abbiamo sbloccato Che cosa Adesso Come produzione No Volevo fare Volevo capire Come fare Quel motore Vedete questo Mi chiede Ah mi serve Un assemblatore Sì come avevo già visto In lavi Mi serve un assemblatore Un assemblatore Che però Non ho Quindi Devo andare A piazzare Un assemblatore Un assemblatore Per conto mio In modo da farmi Magari Delle cose Così per conto mio In privato Quindi me la piazzo Magari qua Che è un luogo Dove non dà fastidio A nessuno Gli metto Una torre tesla E me la produco Ovviamente Una volta che Iniziate ad avere I primi magazzini Con le prime risorse Ve ne raccogliete Due Trecento per tipo E vi craftate Tutte le cose base Che vi servono Senza Molti problemi Adesso Mi sta facendo L'assemblatore Per mi fare La torre tesla E così produrrò Il motore Che serve Per l'estrazione Dell'acqua Non so ancora Cosa serve Se c'è qualcosa A che fare Col vapore Comunque Io intanto La piazzo Qui Non la metto All'interno di una torre Qua perché c'è Il rischio Che non riesca A produrre Abbastanza Quindi La metto qua Poi Vediamo se c'è La possibilità Di craftare Quel motore Ma non credo No Infatti Vedete che L'assemblatore Non ce l'ha Io posso dire Di produrre Questo La pompa Dell'acqua Ma in realtà Ho bisogno Di questo Mi dice È fatto Nell'assembler È fatto Nell'assembler Ok Ma non ho ancora Ancora la ricetta Quindi Aspettiamo che finisca Di produrre Intanto io Vado a prendere Anche la torre Atesal E la piazzo qui Così almeno Vado ad alimentare Mia zona Così L'assemblatore Funziona E poi dovremo Un attimino Beh diamogli subito Un'occhiata E vediamo Dov'è quel motore Se c'è qualcosa Che mi dà Eccolo qua Dobbiamo ricercare Questo Che è una Una cinquantina E ci sbloccherà La ricetta Però forse Potremmo farla Anche non nell'assemblatore Ma farla anche Noi stessi Quindi L'ho messo qua Per niente Ma non avendo Costi di manutenzione Posso anche Lasciarla lì Con calma Non so ancora Però Se su steam Eh si Se su steam Si vedono Le video Dove si piazzano Delle torrette Ci si difende Ci si difende Da invasori Ma non so Se effettivamente Ci siano Già adesso Prendiamo un po' Di pietra Intanto Che non fa mai male Diamo anche un'occhiatina Al carbone Che abbiamo all'interno Vedete che qua Continua a consumare Qua abbiamo I punti vita La capacità La capacità Di movimento Insomma Non vedo armi Di difesa nostra Quindi al momento Io credo che Non ci si possa difendere Insomma Non ci siano armi Bisogna mettere Delle torrette Ma Da quello che mi dicevano Non ci sono neanche Nella ricerca Quindi magari adesso Però È un gioco Che garantisce Già quasi più di 100 ore Come dicono I sviluppatori Guardando come è fatto Il gioco Mi sentirei anche Di confermarlo Quindi C'è poco da dire Un early access E ci resterà Per un anno E sarò veramente curioso Di vedere Come lo portaranno avanti Questo titolo Credo sia già possibile Anche viaggiare Nello spazio Perché le ricerche A livello Di tecnologia Ci sono Quindi A breve Avremo i pannelli Ecco Faremo anche quelli Magari per fare Il vetro Mi servirà questo Vediamo 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 perché L'esperiente di rendere Il nostro protagonista Non un uomo Ma un robot È una trovata geniale Perché giustifica Il fatto che lui Riesca a sintetizzare E a creare le varie cose Abbiamo ricercato Perfetto Ora Possiamo usare I pannelli solari Cerchiamo L'electromagnetism drive Che poi ci conduce Tutta la Levitation technology Che ci dà Le turbine E vale vale Ok Qua Ci viene mostrato I dati Che ci sono Vene di silicio Può essere Anche ottenuto Smeltando la pietra Ok Però Dice che ci sono Anche delle vene Di silicio Quindi Spettacolo Occhio che qua Si consuma Come se Non ci fosse un domani Allora Intanto che Facciamo quella ricerca Vedete che adesso qua Quelli che non abbiamo Non sono sufficienti Ma Li andiamo a prendere subito Così Li abbiamo E Vediamo cosa richiede Il pannello solare Allora Solar panel Riusciamo a farne Uno Fantastico Ci viene chiesto Light purity silicon E lui va a produrselo Con La Pietra Credo Dove Dove Beh Pietra Quella che usa Comunque Ce la fa a farlo Ne fa uno E vediamo un attimino Come funziona Il pannello solare Poi Una volta che avremo Completato la ricerca Cioè tra pochi secondi Un minutino Andremo a fare Anche Il La pompa dell'acqua La pompa dell'acqua Che magari Posizioneremo Non so dove Magari Una zona Un po' più Isolata Per esempio qui E pescheremo L'acqua Da qui Inizio magari Già a piazzare La pompa La Scusate Il water tank Che figata Il water tank Vedete che in questo caso Si consuma Adesso Hai costruito Uno storage tank È Utilizzabile Per Storare Seppare acqua Ogni Water tank Ha Un Singolo Tipo di fluido E può essere Costruito Verticalmente Tuttavia Quando viene rimosso Perdi i liquidi All'interno Ok Non so dove sia l'entrata Dove sia l'uscita Credo sia uguale Quindi attendiamo La pompa Poi non so come funzionerà Per il discorso Del trasporto Dei liquidi Ci sarà magari Qualche tubo Nella logistica Qui non c'è nulla Però Vediamo Allora Stiamo Tre Due Uno Adesso Avremo finito Anche quello E quindi Potremmo produrre Quello che ci serve Allora Vediamo un attimo Vediamo un attimo Stealsman Logistic Eccolo qua Logistic Questo Splitter Ah Lo splitter Fantastico Quello che ci mette a posto Le cose Con un range più ampio E qua L'aumento di efficienza E lo storage più efficiente E qua vedete Che c'è questa torre Che si crea Più avanti Con i droni logistici Che ci permettono Di Queste torre Si mettono sul pianeta Vanno appena appena fuori Dall'atmosfera E permette di essere preso E portato su altri pianeti Quindi Si può fare un pianeta Solo di Produzione di un certo tipo Insomma Questo è il pianeta base Ci sono altri biomi Ne verranno aggiunti Altrettanti Quindi pianeti Magari che producono Solo un tipo Questo è il pianeta classico Dove iniziare Dove le risorse Ci sono Praticamente tutte Abbiamo ricercato Quello che ci serviva Quindi possiamo Adesso Tecnicamente Produrre il motore Lo possiamo fare Ne possiamo fare sei A me ne basta Credo uno Credo Per poter fare la pompa Perché ovviamente Lì si parla di qualcosa Di motorizzato Una pompa Che produce Ok No Quattro Me ne servono Allora Torniamo di là E ne facciamo altri Tre Molto bene Vediamo Adesso si mette a produrre Vediamo Vediamo come funziona Vediamo la pompa Come funziona Non so se me lo porterà Con i rulli O se servono Dei tubi Vediamo Perché io adesso Qua nella ricerca Non vedo Bianche Crystal smelting Questo è Conversione Thermal power Quindi la possibilità Qua di prendere E bruciare combustibili Per produrre energia Refining del plasma Ah ecco L'estrattore di petrolio La raffineria Di petrolio E qui Il plasma Il raffinaggio Di plasma Qua abbiamo Un'altra ricerca Da fare Prima di prenderlo Energy matrix Ok Ci sblocca questo L'energy matrix Quindi dovremmo usare Il petrolio E potremmo sbloccare Questo Fantastico E tutto molto Molto chiaro E vedete Che qua ci servono Sempre e solo Questi cosi qua Questi cubi Azzurri Allora Dovremmo aver fatto I motori che ci servono Quindi possiamo produrre La pompa Sì però A questo punto Ci mancano Abbiamo finito Le risorse Cosa si fa in questi casi Si va Nel magazzino Si prende Un paio di centinaia Di uno Vediamo se Siamo a posto O ci manca Altra No Ci manca Anche del ferro Quindi andiamo A prendere del ferro E qua Prendiamo del ferro Già Già smeltato Dai Vediamo se Eh no Non possiamo Andiamo qua Prendiamo un paio Di centinaia di cose Dovremmo poterlo fare Adesso si Producene una Una pompa d'acqua Ok Intanto ci rechiamo Nuovamente In zona Dell'water tank Così che Si può vedere Che cosa Succede Questo mi da fastidio Ok Quindi Fatto Possiamo mettere La pompa Need foundation Support Ah ok Qua Ok Foundation in quel senso Lì Water Scusa Mettilo lì Ok Perfetto Ok Prodotto Ci serve una torre Tesla Anche un paio E poi Usciamo Con la produzione Non so come Verrà prodotta Però intanto proviamo A mettergli Questi Ok Luck of item No Producimene Un po' Un paio Allora Pompa Del Eh si Torre Tesla Che abbiamo Duplice copia Quindi qua Potenzia 1 E basta Credo Perché il magazzino Non credo Ne serve altro Ok Vediamo Vediamo Adesso stiamo Producendo I primi Blocchi Vediamo come funziona Vediamo se non serve altro Mi sembra strano Che comunque Li butti fuori Così Poi avendo ricercato Come già avevo detto I pannelli solari Abbiamo Ricercato i pannelli Quindi ci da due pannelli Per cominciare Allora Vediamo un attimo Se riusciamo a piazzarlo Ok Collegato Vediamo se funziona Sì No Il cacchio Non è vero Non funziona Scusa Ma almeno Puoi connettere Ma 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 Ah Sì Beh per forza Per forza Sono un babbano Un babbano Allora Dobbiamo andare sulla X Demolirli Ok E dobbiamo farli Nella direzione giusta Logicamente Quindi di qua Ma non esce niente Comunque Eccoli qua Che arrivano Me li fa Non è bellissimo Avrei preferito Dei tubi Comunque Vabbè Dismantle Che tra l'altro Dismantle Me li restituisce Ottimo Davvero ottimo Allora Adesso Vediamo se Mi continua La linea Vediamo Sì Perfetto Di qua Di qua E poi di qua Perfetto Vediamo se Li butta già dentro Senza bisogno Del Sì Ah Fantastico Senza bisogno Del Di quello che Li prende Cioè praticamente Che cos'è Un Dell'acqua Ah posso raccoglierli Adesso sta già diminuendo La produzione Ah sì Perché si è accumulata Bella È bellissima da vedere La pompa dell'acqua Mi butta questi blocchi D'acqua I blocchi d'acqua Guardate dentro Che inizia a riempirsi Input I On Output On Ok Possiamo poi buttare fuori L'acqua E portarla da altre parti Niente Questo avrei gradito Più magari il tubo Ma È una cosa che magari faranno Comunque niente Il pannello solare L'abbiamo E lo posizioneremo Nel supporto Magari faremo Qua Una zona di Produzione energetica Quindi demoliremo Faremo proprio la produzione energetica Totale Tante cose ci sono da vedere Ma ora Quello che io voglio Capire È vedere Quanto interesse avete Per questo titolo Perché per farne video Ce n'è Però ovviamente Se non mi interessa Io ho mille altri giochi Da fare Questo poi me lo giocherò Per conto mio Non è un problema Ringrazio ancora Ciccio Per Ciccio laser Per avermelo regalato Perché è stato Veramente un bel pensiero E Credo di avervi portato In questo caso Un gran titolo Una Una vera sorpresa La prima sorpresa Del 2021 Bene ragazzi Io vi attendo Qua sotto Il vostro commento E noi ci sentiamo Al prossimo video game play Alla prossima ragazzi E ciao ciao Ciao